Un caro saluto a tutti gli autori internazionali e gli ospiti internazionali, a tutti gli autori italiani e a tutti i vincitori delle diverse sezioni di questa edizione del Festival Europa Inversi dedicata alla felicità, organizzato dalla Casa della Poesia di Como e preseduto dalla seppia più brava Laura Garavaglia, Presidente della Casa della Poesia di Como e Presidente del Festival Europa Inversi. Ringrazio Andrea Tavernati e tutti i collaboratori e i soci della Casa della Poesia di Como per aver potuto realizzare la bellissima antologia che troverete lì al Festival e è già disponibile online. Purtroppo i dati e gli eventi che si sono susseguiti in queste ore nel Centro Italia mi hanno impedito di essere lì con voi, ma vi assicuro che un abbraccio poetico lo rivolgo a tutti, mantenendo tutti gli impegni che la Casa Editrice ha stabilito con un patto d'acciaio con Laura Garavaglia da qui a quando vorrà lei proseguire la collaborazione con i quaderni del Bar di Edizioni e che dire, noi ci siamo, la poesia soprattutto, sempre e comunque.